La chiesa di Santa Sofia ad Anacapri è stata testimone di un momento indimenticabile, il matrimonio di Alessandra Mastronardi e il dentista Giampaolo Sannino. Questa unione ha suggellato una storia d'amore travagliata, superando ogni difficoltà per trovare finalmente la felicità insieme. Circa 150 ospiti, familiari e cari amici, ognuno di loro ha visto la coppia affrontare insieme le sfide e le tribolazioni, ed ora erano lì per celebrare la loro unione. La cerimonia è stata emozionante ed intima, con le parole del sacerdote che risuonavano nell'aria come una promessa eterna. Alessandra e Giampaolo si sono scambiati voti personali, occhi lucidi di lacrime e cuori colmi di amore. Dopo il bacio appassionato che ha sigillato il loro amore, gli sposi hanno lasciato la chiesa sotto un caloroso applauso da parte degli amici e dei parenti. L'atmosfera era magica, come se il mondo intero, stesse festeggiando il loro amore ritrovato. Nello scorrere degli anni, hanno mantenuto viva la fiamma del loro amore, affrontando insieme le sfide della vita e costruendo un futuro solido, basato sulla reciproca fiducia. Non importa quanto tempo sia passato, il loro amore è stato riscoperto e rinnovato, e nulla avrebbe più potuto separarli. Così, Alessandra Mastronardi e Giampaolo Sannino hanno vissuto felici e sereni, consapevoli che avevano superato ogni ostacolo e che il loro amore era stato più forte di qualsiasi cosa. Il loro matrimonio è stato un simbolo di speranza per chiunque abbia mai dovuto affrontare difficoltà in una relazione. Un promemoria che l'amore può superare tutto. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.